Anche oggi sono qui a fare il mio duro lavoro, come tutti i giorni, tutti i secoli, tutti i millenni, ho un'anima da prelevare. Oh ragazzi, siamo passi porco boia, ma te non c'hai idea, l'abbiamo fatto fuori quello là. Ah ah, porco, siamo al governo ragazzi, siamo al governo, abbiamo salvato il paese, siamo mica qui a dare il tavolo a Gattuso ragazzi, porco boia, porco boia, chi sei te? Sono la morte! Chi sei te? Sei sordo? Sono la morte! Oh, ferma la musica te, oh siamo pazzi, morte! Perché proprio ma? Dalla fine del PC, prima di te, chi sono stati i leaders? Leaders, plurale. Plurale ma è stati, infatti mi sembra... Fammi pensare, dunque, Occhetto, D'Alema, Fascino, Prodi, Veltroni, Franceschini, perca? Li ho già fatti saltare tutti, contali, quanti sono? Sei? Ehi, porco boia, vuoi dire che io sono il settimo birillo? Il settimo birillo, un film di Ingmar Versan con Gabriele Lavia nella parte della morte. Sono la morte! Ho appena detto nei titoli, Lavia. Ragazzi, siamo mica qui ad ammazzare gli scarafaggi col tip-tao, su, da. Sono venuto a prenderti. È già da un pezzo che ti sono al fianco. Oh, ecco chi era, lo dicevo io, che la bindi non poteva essere così supata. È scoccata la tua ora. Politicamente tu sei finito. Oh, ragazzi, ma quale finito? Morte! Siamo pazzi, ma siamo appena cominciati. Oh, ragazzi, non scherziamo, eh! Io sono nella maggioranza. Qualche morte. C'è da salvare il paese, morte. Siamo pazzi. Siamo mica qui a insegnare la macarena e l'anguille. Morte! Ah, no? Con chi sei nella maggioranza? Cos'è detto? Con chi sei nella maggioranza? C'hai una domanda di riserva? Rispondi, Bersani. Gasparri. E Cicchitto. Roccoboia. Scaiola. E la russa. Oh, non dire la russa, mi sento morire. C'hai anche te il tuo punto, debole morte. La russa. Ah! Non dire quello che comincia con là e finisce con russa. La russa. Ah! Ah, basta. Cosa c'entra la russa? Porco boia. Capirei se mi dicessi che io sostengo l'uverno insieme alla santa anche. Ah, santa anche. Ma no, ma morte, rompere i maroni, dall'appoggio esterno la santa anche. Non c'è dentro governo, da un appoggio, la via. Non c'è un appoggio esterno, dall'appoggio, tocca a te. Dall'alasso appoggio. All'alasso, non dire. Anche con quella che comincia con santa e finisce con che? Morte, ti posso chiedere un piacere da uomo a morte? Sì. Se te, vai, da dove vieni te, no? Se incontri Berlinguer, fai la vaga, dici che a me non mi hai incontrato, che ero, dici che ero in riunione, va. Basta Bersani, è ora di andare. No, aspetta un momento, morte. Ti voglio proporre una cosa, te è morta e te sai giocare a scacchi. Come lo sai? Me l'ha detto Rutelli. Questo Rutelli non l'ho mai incontrato. È strano, perché per noi è morto da anni. Dice anche la Palombelli, ragazzi, chiedila lei. Compagno Bersani, per quale ragione vuoi sfidarmi? Facciamo così. Se te vinci te, mi prendi a me. Ma se vinco a me, ti prendi Renzi. Oh, ma te lo prendi per davvero, eh. O Renzi si rottama da solo. Scegli i bianchi o i neri. I grigi sono contemplati? No! Morti, non posso, tu la fai facile. Se io scelgo i bianchi, mi vota contro Alfano. Se scelgo i neri, mi vota contro Casini. Capisci, morte? Che palle, non sanno nemmeno scegliere un colore e vogliono governare. Ho capito, scelgo il nero. Attenzione, morte, perché di fronte al fatto compiuto, allora io scelgo i bianchi. Siamo mica qui a pulire il palazzo dell'ONU col vetril. Siediti, hai bianchi la prima mossa. Ti faccio la mossa che mi ha fatto cusciutta nel 1984. Cavallo in C6. Te la cavi bene con gli scacchi. Hai imparato ai tempi di Priesnev quando viaggiavi per la Russia? No, ho imparato all'oratorio di Piacenza coi fratelli Giovanardi. Punto debole anche Giovanardi. No, è giovano. Giovanardi. Sì, la gemella della Santa Anche. Ah, ti sei distratto. Ti prendo la torre. No, ma hai preso la torre, povero Nicola. Adesso che ce lo dice Adalema? No, ma siamo pazzi, ragazzi. Oh, a parte, ragazzi, però, porc boia, guarda, veramente. Allora, io tu mi hai mangiato, ragazzi, guarda che. E adesso Adalema che ce lo dice? Che ce lo dice? Non potevi mangiarmi l'alfiere. No, no, penati, l'ha già fatto fuori la procura di Monza. Guarda che cosa ti faccio, Bersani. Pedone in P3. Eh, c'è mica qui. Non è che il cane da riporto c'ha la riga da una parte, non mi freghi? Eh no, perché arriva fino alla H, la scacchiera. P3 esiste mica. Ah, sì, sei un illuso. Non credevate nemmeno che ci fosse la P2. Chiedi ai tuoi colleghi della maggioranza. Ce n'è ancora qualcuno lì, iscritto. Va bene, morte. Cosa vecchio puoi da me adesso? Devi dire guarda cosa faccio e mangi la scacchiera. Devo dire guarda cosa faccio. No, sei un po' anto, devi prendere la scacchiera e dire... Guarda cosa faccio. Guarda. Crozza. Guarda. Porco boia morte, speriamo solo che non mi mangi da lema. Ci tengo, la regina si muove in tutte le direzioni. Cosa ti credi, ci abbiamo una regina coi baffi? Una regina coi baffi? Sei sicuro che la regina da lema coi baffi giochi ancora con te? La tua regina è mia. Sei finito. No, 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 no. Ragazzi, fermo un po' sta musica. Finito cosa? Oh ragazzi, ma siamo pazzi? Ma se adesso abbiamo un premier che non guarda il culo alle finlandesi? Ragazzi, è un po' anche merito mio, eh? Oh porco boia. Guarda adesso te. Re, che sono me. In C8. In G8. Tie, Europa sta con noi. Ho vinto, morte. Ciao. Tappasciuto. Sei sicuro, Bersani? L'Europa, quella che ha chiesto i licenziamenti facili. L'Europa. Se salvi i lavoratori dai licenziamenti, ti cacciano dall'Europa. Se salvi l'Europa, ti cacciano i lavoratori. Porco boia. Sono in un culatel de sac. Scaccomotto, Bersani! E adesso cosa succede? Mi porti via con te nell'oscurità, come hai fatto con Mariotto Segni, che non se lo ricordano più nemmeno neanche i parenti. Sì! Ascolta, morte, posso dire un'ultima metafora sul mio partito? Metaforizza per l'ultima volta. No, ragazzi, non è che se alla tavoletta del cesso ci attacchi sopra una mela diventa un MacBook. Finito, bom, sono pronta, andiamo. Scusa, morte, nel luogo dove vi porti, se avete sottosegretario... Bersani, ti prego! Dobbiamo fare i ventroniani! Bersani! Dobbiamo pensare! Gabriele Labia! Ma che onore per me!